Bentornati, la giornata di oggi si concluderà come abbiamo più volte ricordato questa sera in uno dei comuni di Città Metropolitana, Pogliano Milanese, che ospiterà l'evento Il Volontariato, celebrare gli sforzi, condividere i valori, promuovere il bene, con la partecipazione del Presidente di CSV Milano, Andrea Fanzago, e quindi è proprio organizzata a Pogliano Milanese. Per questo abbiamo qui ospiti con noi il Sindaco Carmine Lavanga, benvenuto, e il Vice Sindaco Gabriele Magistrelli. Buongiorno a tutti. Grazie mille per essere qui con noi oggi, perché oggi abbiamo un po' di cose di cui parlare. Anzitutto abbiamo una comune di Città Metropolitana, perché quando parliamo di volontariato, oggi è giornata del volontariato e ricordiamo la Civil Week, che oggi inizieranno ad esserci delle anticipazioni della prossima edizione 2024, parliamo di il Comune di Milano ma anche della Città Metropolitana. La nostra città metropolitana è composita e varriopinta. Con la Civil Week noi abbiamo sempre intercettato ovviamente le realtà più virtuose, quelle che mettono in campo le proprie forze comunitarie per rendere generativo quello che c'è di potenziale e di attuabile nel loro territorio. E si dice sempre, spesso, insomma il terzo settore lavora, il non-profit lavora, ma le amministrazioni dove sono? A volte ci sono, a volte no. Ecco qui abbiamo finalmente un'amministrazione che c'è, però che ci deve raccontare il rovescio della medaglia che riguarda la sua comunità e che è interessante da condividere. Prego, do la parola al Sindaco. Grazie, grazie. Sì, è abbastanza paradossale oggi raccontare in questa sede quello che poi avviene magari anche in altri comuni. Noi siamo un piccolo comune di 8.300 abitanti nella prima cintura milanese, quindi a nord-overse di Milano. Confiniamo con delle grandi città come Roe, quindi siamo a 6-7 chilometri da Milano. Noi viviamo questa difficoltà sul nostro territorio di trovare persone che partecipano alla vita sociale del paese e lo dico perché le associazioni che sono presenti sul territorio, quelle storiche, piano piano vengono meno perché i partecipanti, insomma quelli attivisti di queste associazioni vanno in pensione, diventano anziani, quindi hanno anche delle esigenze di vita diverse e quindi non c'è questo ricambio generazionale. Questo a me spiace molto perché ovviamente il volontariato, come dico sempre, bisogna sempre ringraziare tutte le persone che prestano il proprio tempo al bene degli altri e su questo secondo me è uno degli atti più nobili che si possa fare e quindi deve esserci una volontà anche di voler partecipare. Sembra un gioco di parole ma è proprio così e ho notato che in questi anni questo viene meno. Non abbiamo questa fortuna, magari che hanno anche altri comuni, di avere persone che si prestano per il bene comune. Non ne faccio ovviamente una colpa a nessuno, sto dando un dato di fatto. Ma lo abbiamo visto anche con associazioni, anche con attività sociali che possono sembrare pure banale. Raccontavo prima nel Forionda anche il nonno vigile, che è una cosa che di solito è molto apprezzata. Anzi, io ho visto scene in comuni dove i due nonni vigili litigavano perché la signora aveva sbagliato il giorno e quindi il mercoledì toccava lui mentre la signora toccava il giovedì e sono rimasto cinque minuti a guardarli, anche sorridendo, dico averceli io a Pogliano. Ci tengono proprio, è certo. Che ci tengono perché anche il nonno vigile... Mi diceva che arrivavano a un certo punto da Magenta. E noi avevamo un'associazione che si chiama AMPS, Associazione Nazionale Polizia di Stato, che sono dei poliziotti in pensione, motociclisti, poliziotti e motociclisti, ma non solo poliziotti ma anche normali cittadini che hanno aperto un loro distaccamento, una loro sezione sul nostro territorio. Va bene, magari c'è stato anche il Covid e ci ha messo del suo, ma dal 2019 a oggi non siamo riusciti in cinque anni a trovare un solo poglianese che potesse aderire a questa associazione, che prestava servizio davanti alle scuole, al mercato, quindi passeggiavano con questa specie di divisa, dove non è nulla di militare, una divisa dove venivano quasi da scout, mi verrebbe da dire, e quindi molto apprezzato dai cittadini, quindi si sentivano un po' anche protetti da questi signori. E il loro compito, o meglio, la loro utilità qual era? La loro utilità era, intanto ci facevano servizio scuole, quindi scaricando, uso questo termine magari improprio, la polizia locale da poter fare questo lavoro e dedicarsi anche ad altre cose, altrimenti l'attraversamento in alcune zone strategiche del paese in capo alla polizia locale. I due agenti, o barra quattro, che facevano le scuole, lei calcoli che Pogliano è un paese che prima del comando unico di polizia locale che abbiamo istituito quest'anno aveva quattro vigili, quindi se su quattro fanno le scuole vuol dire che sul territorio non c'è nessuno. Oggi ne abbiamo di più perché abbiamo fatto il comando unico col comune di Nerviano e quindi si è andato a integrare anche quelle che sono gli agenti di Nerviano, ma anche le scuole di Nerviano, quindi a pari e patta sia lì. Quindi facevano questo, facevano le scuole, la classica transenna oppure l'attenzione al bambino che attraversava la strada sulla provinciale, ma stiamo parlando di una provinciale secondaria, cioè una provinciale nel centro abitato. E non siamo riusciti a trovare nessuna persona che potesse aderire, tant'è vero che quest'anno l'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Magenta ha consegnato il loro labaro e hanno rinunciato perché noi a queste persone, a parte la cena di fine anno che abbiamo sempre organizzato con tutti quelli che fanno volontariato nel territorio, non gli abbiamo potuto riconoscere nulla perché poi c'è anche questa medaglia, questo altro lato della medaglia della pubblica amministrazione, questi sono venuti gratis per tutto questo tempo pagandosi anche la benzina e quindi la magenta non è proprio dietro l'angolo. Lei mi diceva che da diverso tempo fa parte dell'amministrazione di Pogliano Milanese e quello che sta dicendo in realtà è abbastanza aderente con quelli che sono i dati dell'ultima ricerca Istat, dati che si fermano al 2011, guardano un decennio, però sono stati pubblicati nel 2023 e che comunque hanno registrato un calo della presenza del volontariato in un settore come quello del terzo settore che in realtà è aumentato, sia come numero di organizzazioni non profit sia come anche fondi raccolti. Un volontariato chiaramente registrato e studiato da lista secondo i canoni tradizionali. Mi chiedevo quindi, la domanda è duplice, da una parte se appunto anche lei sta dicendo di fatto che sta registrando questo calo e magari se nella sua piccolo ci sa dire anche il motivo che riguarda la sua realtà locale e se invece però dall'altra parte ci sono delle altre forme di volontariato oppure no nel vostro comune che invece notiamo esserci in realtà però a Milano, non in città metropolitana ma proprio nel comune e che sono diciamo più disintermediate, quindi magari non intercettate ancora in modo ufficiale e strutturato e che riguardano sostanzialmente i giovani, quindi magari volontari per un giorno sì, un altro no, riguardo alle tematiche più che essere legate a delle organizzazioni precise. Io ripeto, per quanto conosco il mio territorio non vedo, vedo proprio un distaccamento da parte delle nuove generazioni, mi spiace dirlo, non sono un sindaco anziano, ho 54 anni quindi bene o male frequento il mio territorio, conosco bene anche i giovani del mio paese, non vedo questo attaccamento alla... Potrebbe essere un appello quello di oggi. È un appello, ne abbiamo fatti tanti, noi anche sul sito comunale chiediamo sempre, dico se volete fare qualcosa, avete in mente qualcosa per qualcuno. Noi paradossalmente sponsorizziamo tutti gli eventi e patrociniamo tutti gli eventi che ci vengono proposti, che servono a catalizzare il cittadino, che servono alla collettività, anche se magari sono cose che non ci interessano, non ci piacciono, ma non è che quella è la prerogativa per decidere se una cosa va fatta oppure no. Quindi siamo sempre aperti a tutto, qualunque cosa, qui c'è l'assessore che poi si occupa lui prevalentemente di queste cose, siamo sempre pronti a dare una mano, anche patrocinando, quindi dicendo non paghi nulla, vuoi presentare un libro, puoi venire, abbiamo la sala consigliare a disposizione, il nostro... Quindi apertura massima. Apertura massima, 360 gradi su ogni settore, ovviamente che interessi la collettività, non è che ci mettiamo a vendere le pentole in consiglio comunale, in sala consiglio, perché ci hanno chiesto anche, non proprio le pentole, però qualche associazione magari anche di categoria che vuole sponsorizzare la propria attività, ecco quelli lì ovviamente non li possiamo patrocinare. Invece quali sono i bisogni del comune? In che cosa vi piacerebbe essere aiutati e partecipare? A me personalmente mi piacerebbe che tutti gli eventi, poi ripeto, che vengono fatti per la collettività, non è una questione di colore politico, nell'interesse della collettività ci fosse qualcuno che partecipi di più. Io le do un dato, il 99% degli eventi che organizza l'amministrazione comunale viene fatta dai consiglieri comunali, pure il volantinaggio, qui ho l'assessore vice sindaco che l'ultimo evento si è fatto mezzo paese con il suo zainetto e si è volantinato tutte le caselle. Adesso io non dico che abbiamo bisogno di quello che va a volantinare per noi, ma noi ci andiamo noi, ci va anche il sindaco, qui mi è testimone lui, ci dividiamo le zone, abbiamo lo zainetto e andiamo perché stasera magari c'è la Civil Week che vorremmo sponsorizzarla a 360 gradi, quindi sui nostri siti, sui nostri podcast, sulle nostre cose. Questa è la prima cosa, la seconda mi piacerebbe tantissimo ripristinare, non la vogliamo chiamare AMPS, la vogliamo chiamare Nonno Vigile, la vogliamo chiamare responsabili a disposizione delle scuole, chiamatelo come volete, ma qualcuno che dedica quei 10 minuti, perché stiamo parlando di un quarto d'ora, 10 minuti, alla mattina e all'uscita dalla scuola per i propri nipoti, per i propri figli, perché il paradosso è che quelli che venivano da Magenta non conoscevano nessuno dei poglianesi, io dico ma tu che c'è tuo nipote che vai a scuola e magari sei lì al bar a giocare a 3-7 dalla mattina alla sera, perché non ti mette a disposizione? Ci abbiamo provato, c'è qualche sindaco, vice sindaco, a momenti se non vado fuori in tempo mi gridano dietro, perché questa è la realtà magari del nostro paese, sui giovani, ai giovani chiedo di partecipare di più, noi facciamo i consigli comunali, è vero che oggi andiamo anche in streaming, che non c'è nessuno, zero presenze, una volta io mi ricordo, ho fatto il consigliere comunale di opposizione, quelle 10, 15, 20 persone venivano, qualcuno perché voleva la polemica, qualcuno perché voleva capire così, oggi è vero andiamo in streaming, noi siamo stati tra l'altro uno dei primi comuni sotto i 10 mila abitanti andare in streaming già, Gabriele correggimi, 7 anni fa, 6-7 anni fa tutti, ed è un bene, così ci vedono tra virgolette in tutto il mondo e tutti possono sentire quello che diciamo ed è tutto registrato così evitiamo equivoci, però non viene più nessuno in consiglio comunale, non viene più nessuno in sala consiglio, questo non ci dispiace, vabbè, è come si dice, è l'evoluzione dei tempi, quello che mi piacerebbe è questo, quello di vedere più gente partecipare, noi durante il Covid che avevamo fatto un lavoro secondo me straordinario, ma non lo dico da sindaco, lo dico con grande orgoglio da sindaco, c'erano tutti i consiglieri comunali, anche noi avevamo paura di morire, lo racconto quando qualcuno mi dice, ma voi uscivate e eravate in comune, sì ma anche noi avevamo paura di prendere il virus e noi eravamo lì in consiglio comunale a bustare le mascherine che abbiamo consegnate ai poglianesi, ad andare a fare la spesa per conto dei poglianesi perché tra virgolette avevamo una pseudo deroga, il sindaco, a comprare le medicine e anche a telefonare, a trovare tutte quelle persone che erano in terapia intensiva, quindi eravamo lì presenti in comune. Quando abbiamo fatto quel lavoro di imbustare quasi 14.000 mascherine che abbiamo consegnato ai nostri cittadini e l'abbiamo fatto noi di notte, perché noi di notte andavamo a mettere la bustina con dentro le due mascherine, stiamo parlando adesso, quando dici una cosa del genere fa abbastanza sorridere, dobbiamo contestualizzarlo questa cosa, stiamo parlando del marzo 2020 dove una mascherina di quelle chirurgiche costava 5 euro e se la trovavi? Noi ne avevamo comprate perché avevamo annusato che c'era qualcosa che non funzionava, dalla Cina ce ne eravamo fatte mandare 16.000, tra l'altro le abbiamo anche regalate alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco e anche agli altri sindaci degli altri comuni che non avevano una mascherina, le abbiamo consegnate, le abbiamo anche fatte per venire, qualcuno le è venute anche a ritirare ma qualcuno le abbiamo anche portate, l'abbiamo fatto sempre noi, cioè i consiglieri comunali, vabbè quella è stata una cosa straordinaria perché era giusto che i cittadini rimanessero in casa, ma i consiglieri comunali sono venuti in comune con i guanti, con le nostre mascherine, con la distanza prevista, con il famoso gel che utilizzavamo per sanificarci le mani per mettere le mascherine. In queste occasioni, ripeto qua, no perché c'era il problema Covid, ma noi vediamo che quando dobbiamo fare anche soltanto banalmente un volantinaggio, non c'è nessuno. Però l'anno scorso alla Civil Week 2023 avete partecipato ed eravate un hub, giusto? Chiedo al vice sindaco. Esatto. Confermo. Noi abbiamo avuto la fortuna l'anno scorso di conoscere Andrea Fanzago durante una riunione che avevamo fatto, convocato per la giornata del volontariato, quindi proprio per il 5 dicembre, per la giornata internazionale del volontariato. avevamo invitato appunto Andrea e durante la serata, il tema non era la Civil Week, però durante la serata lui l'ha buttata lì. Nel senso, ci ha detto a Milano è il secondo o terzo anno, forse si erano bloccati con il Covid, perché erano partiti... Aveva iniziato nel 2020 la prima edizione online e poi... e quindi c'è stato in mezzo al Covid, quest'anno la riproponiamo e ci piacerebbe che anche le associazioni puglianesi partecipassero. Allora noi abbiamo... siamo stati subito entusiasti di questa proposta e ci siamo proposti proprio come hub territoriale, quindi l'anno scorso, nei tre giorni del mese di maggio, abbiamo coinvolto tutte le nostre associazioni che hanno partecipato, perché comunque anche noi abbiamo delle associazioni che fanno fatica, perché li devi sempre invogliare, però poi quando partecipano ci mettono l'anima, ci mettono il cuore e danno tutto quello che hanno. E abbiamo partecipato e siamo stati davvero molto contenti, perché abbiamo fatto una tre giorni ricca di eventi, coinvolgendo dalla musica col corpo bandistico cittadino, alla Caritas e a tutte le varie attività che abbiamo sul territorio, quindi abbiamo coinvolto anche i bambini attraverso dei giochi. Poi noi abbiamo la fortuna di avere da tre anni la Casa delle Stagioni. La Casa delle Stagioni, ecco, questa è un plus del nostro comune. è gestita dalla cooperativa Oltre Perimetri, che fa parte di SERCOP, che è la municipalizzata che segue i servizi sociali. E in questa casa, dove ai due piani superiori ci sono degli appartamenti per gli anziani, si chiama Casa delle Stagioni perché va dai bambini fino agli anziani. Quindi ci sono sei appartamenti per gli anziani e sotto ci sono due ambienti, anzi tre perché abbiamo due sale più anche il disimpegno interno sul quale ci sono dei tavoli dove si possono fare attività. E vengono utilizzati dai cittadini attivi, non solo dall'associazione ma dai cittadini attivi. Io sono un esperto di yoga, posso mettere a disposizione il mio tempo per fare un corso di yoga alle persone di Pogliano. Sono un esperto di lettura, metto a disposizione il mio tempo per fare delle letture animate. E oltre i perimetri, proprio SERCOP, ci confermano che Pogliano sta diventando un bel laboratorio per queste iniziative. Molto interessante. Tanto questa mattina avevamo la professoressa Facchini, docente all'Università Bicocca, ma anche presidente dell'Associazione Nestore che parlava proprio di questi lavori intergenerazionali tra anziani e più giovani. Abbiamo l'orto, l'orto che è bellissimo. L'orto, infatti, fuori nel giardino ci sono delle vasche, delle vasche a tezza di un metro. Un metro over 8. Per terra fa fatica a piegarsi. Allora li ho fatti alti. Ah, bello, che è l'idea. Sono dei vasi, perdona mi capire, sono degli orti che invece di essere a quota 00 sono rialzati di un metro. Fantastico. Quindi tu vai lì e come il tavolino... E quindi anziani e i bambini insieme possono... Ah, meraviglioso. Come noi con i nostri nonni, insomma. Io non avevo l'orto e... E ogni settimana c'è il gruppo di bambini che con gli anziani fanno... Oltre al terrazzo anche. Oltre, vabbè, al terrazzo che è... L'ultimo piano c'è un terrazzo piano dove ci sono 50-60 vasi, dove in questi vasi vengono coltivati dei fiori, insomma degli ortaggi, oltre al gersomino che sta comunque avvolgendo la struttura perché c'è tutta una struttura in ferro. Tra l'altro ci tengo a dire che il progetto della Casa delle Stagioni ha vinto il primo premio progetto riuso in Italia con un finanziamento pubblico del governo per 1.197.000 euro. Complimenti. È un comune piccolo come Pogliano che ha portato a casa un risultato così alto. Io ricordo in città metropolitana quando si andò a vedere chi poi era stato assegnatario di questi contributi, di questi fondi, ci fu proprio l'allora vicesindaco della città di Milano che disse c'è stato un piccolo comune della provincia del Nord Office milanese che ha indovinato il tema, un po' come quando andavamo a scuola, il tema e ha preso un contributo importante. Abbiamo preso il 100% del contributo. Quindi per noi è stato e abbiamo ristrutturato questa vecchia casa creando quello che... Questa è una buona notizia. Questa è una bellissima notizia per il nostro comune è stato, è un vanto ancora oggi della nostra amministrazione, noi eravamo, io facevo il vicesindaco... Soprattutto è un'idea esportabile questa. Assolutamente, noi era una vecchia casa anche brutta, l'abbiamo ristrutturata, abbiamo voluto che al piano terra venissero abbattuti, io faccio l'ingegnere quindi un po' di mestiere, tutti i muri e quindi è fatto tutto completamente da vetrate e poi sopra c'è questo edificio con questo terrazzo piano, l'orto come ha raccontato Gabriele prima e quindi c'è questa trasparenza, cioè tu quando passi riesci a vedere attraverso e anche oltre, quindi vedi chi sta nei laboratori ma anche chi sta nel giardino, quindi c'è questa capacità di inclusione, no? Perché poi sapete tutti che i muri escludono e le finestre, insomma le pareti finestrate includono, no? Quindi quando tu... e vediamo che è molto molto utilizzato effettivamente quello che dice Gabriele è vero e ce lo chiedono in tantissimi. Abbiamo anche fatto un'altra piccola, lo dico, uno spazio per fare le feste di compleanno dei bambini dai 0 ai 6 anni, perché poi non vorremmo che venisse snaturata la logica di questo locale, che è un'altra cosa che piace ai poglianesi, dove la mamma che ha bisogno di fare la festa di compleanno del proprio bambino non trova una location, se non gli soliti locali dove ci sono le palline, gli scivoli, ma che vuole una cosa un po' più, perché quando tu fai il compleanno di un bambino di 4 anni, di 3 anni... Non è un rave party, bravissimo, non è un rave party, bravissimo, quindi questa cosa qui piace molto, soprattutto d'estate quando possono andare sul terreno. Questa sarebbe da esportare, questa idea qua. È un bel progetto, abbiamo vinto il primo premio e quindi di questo ne siamo molto orgogliosi. Assolutamente, e parteciperete anche alla Civil Week 2024? Sicuramente, proprio stasera abbiamo un incontro rivolto a tutte le associazioni di volontariato di Pogliano e anche i cittadini, nel quale interverrà ancora anche quest'anno Andrea Fanzago e sicuramente sproneremo le associazioni affinché propongano delle iniziative per il maggio prossimo. Ecco, prima facevo una domanda al Sindaco chiedendo cosa si aspetta dalle associazioni. Ecco, io mi aspetterei... Mi ha rubato la domanda, volevo farla anche a lei. Tra poco mi sta rubando il lavoro. Ecco, io mi aspetterei, diciamo, non più collaborazione, ma anche la collaborazione, però più coinvolgimento tra di loro, più condivisione delle iniziative. Perché noi in questi anni abbiamo fatto... Allora, ormai sono 15 anni che ci siamo noi come maggioranza in amministrazione. Fin dall'inizio abbiamo proposto la consulta delle associazioni. Consulta che è nata, è durata 4-5 anni, abbiamo fatto anche dei belli eventi, facendo le giornate del volontariato nel mese di maggio, nella quale venivano coinvolte oltre le associazioni di Pogliano, anche quelle esterne. Ed erano arrivate addirittura una trentina di associazioni. Però anche lì, purtroppo, ci si limitava. Noi facevamo anche le tre di notte per preparare la giornata e tutto, no? Con Nessi, con Nessi. Però poi le associazioni magari partecipavano all'ultima riunione organizzativa, poi si mettevano in piazza con il loro gazebo, però loro stessi ci dicevano che poi non avevano nessun ritorno, perché le persone... È vero, c'erano delle iniziative di corollario, no? Però poi le persone non si fermavano nel gazebo e allora noi abbiamo sempre insistito dicendo ma organizzate qualcosa, fate di più, fate delle iniziative... Coinvolgete, come dicevo prima. E c'è sempre stata questa difficoltà. E in più una cosa che vorrei sottolineare è che le associazioni hanno bisogno a parte il coinvolgimento proprio di coinvolgersi tra di loro, di parlare tra di loro. Di lavorare in rete davvero. Perché quando abbiamo fatto, abbiamo istituito la consulta a tante associazioni, nonostante noi siamo un paese piccolo, non si conoscevano tra di loro. Magari l'attività che faccio io la faceva anche lui o la faceva anche tu. Si mettevano insieme le forze e diventava qualcosa di più importante. E perché? Cosa succede? Che le associazioni a volte pensano al proprio orticello. Sì, quello è un male abbastanza italiano. C'è veramente il paese dei comuni, per cui c'è una parcellizzazione grande. Anche nel piccolo e nel piccolissimo. E questo io lo capisco perché da sempre ho fatto il volontario anch'io in parrocchia, all'oratorio, io insieme a dei miei amici... E poi volevo chiedere anche questo. Adesso finisca la vada perché se no qui c'è cosa sono qui a fare. È disponibile per il prossimo anno. No, io vengo dal mondo dell'oratorio, della parrocchia, ho sempre fatto volontariato fuori da quando sono piccolo. Insieme a dei miei amici abbiamo fondato anche il gruppo sportivo dell'oratorio San Luigi di Pogliano. Siamo partiti con 14 ragazzi, adesso ce ne sono 200. Quindi è stato un gruppo formato. Quindi io capisco le difficoltà dei volontari. perché al giorno d'oggi con il lavoro è sempre difficile portare fuori la gente per darsi da fare, per condividere il proprio tempo. Però se ognuno non pensasse solamente al bene della propria associazione, ma al bene di tutti, secondo me si potrebbe fare... Cioè fare davvero la propria parte per quello che si può, come recita lo slogan di questa giornata. Io adesso vorrei riproporvi l'intervista ad Ai Utility, a Cristina Campanelli di Ai Utility, così la facciamo conoscere anche ai nostri ospiti poglianesi, per poi ritornare in studio sempre con loro, perché avrei altre cose da chiedervi interessanti, sempre che non mi anticipi le domande, perché adesso bisogna stare attenti. Comunque puoi prendere il suo posto di vicesindaco. Allora possiamo far cambio. Se fate cambio, quindi Gabriele, se passi di qua... Non so se gli conviene, però... Devi rinunciare. Va bene, va bene. Prego. Arriviamo al tempo del Covid. Crei un piccolo gruppetto da cui poi scattolisce di tutto e di più. Come è nata l'idea di Ai Utility, appunto? Ai Utility è nata perché ci siamo trovati a essere chiusi, ognuno nella propria bolla, e questo è stato uno shock, perché da una parte c'era un mondo che tende ancora adesso a globalizzare i social, si comunica qualsiasi cosa, cosa ho mangiato, cosa ho bevuto, dove sono andato, prima ancora di iniziare a fare una cosa la devi pubblicare. Quindi in questo mondo che è così tutto condiviso, c'è stata la mannaia della non condivisione, della solitudine, dell'essere da soli, che ha obbligato in pratica tutti noi a fare i conti con la propria fragilità, con la propria solitudine. Io vivo poi in una zona, lavoro in una zona dove ci sono tantissimi anziani, e dire a questi anziani, beh, per andare al supermercato scarichi l'app, sul tuo iPhone, scarichi la tua app in modo da vedere lo slot, lo slot, scusa l'è lo slot? No, 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 mi vuol pam. Quindi, siccome ci sono tanti anziani, tante persone sole, è una zona molto longeva la zona di Porta Romana, la vigentina, non so perché ci sarà, malgrado l'inquinamento ci sarà un'aria buona. Un buon aria da quelle parti. Sì, e allora abbiamo detto, in un gruppetto di chat di 4-5 persone, ma senti... 4-5 persone, tenete questo numero in mente, perché poi adesso andiamo avanti per capire un'altra cosa. 4-5 persone, poi io ho tanti iscritti con me, ho tante insegnanti dell'American School, dell'International School of Milan, perché parlando, biascicando un po' di inglese, loro vengono, stanno poco tempo, non fanno in tempo imparare l'italiano e quindi li appoggiano quasi tutti. Ce ne sono tantissimi che abitano in zona Corso Lodi. Ne ho tanti, dicevo, ma questi poverini che sono, non conoscono nessuno, come facciamo? E allora abbiamo detto, ma senti, portiamogli la... cioè, aiutiamoli con la spesa. Però c'era il problema che non si poteva neanche andare in giro, perché adesso noi ci l'abbiamo rimosso, ma il primo Covid, e quindi tutte queste persone dicevano, ma come fanno? Ma come fanno? Sono qui da sole, non possono tornare indietro, perché gli aerei non le possono prendere. Come facciamo a aiutare questa gente qua? Tutti gli anziani, la gente che... Come fai? Però anche noi avevamo i nostri problemi, perché come fai? Giri in macchina? No. Gli unici che potevano girare in macchina erano i medici, poi mostrando il cartello. Se giravo come medico, piena di spesa, diventavo poco credibile. Insomma, allora cerca che ti ricerca che ti ricerca, abbiamo incontrato Cecilia Strada, che mi ha detto, ma noi abbiamo delle logistiche di persone fornite dal comune, con Milano Aiuta 02 02 02, e potremmo portare loro la spesa, mancherebbe la spesa. La spesa la facciamo noi. Guarda, tempo, ma io dico dieci minuti, ho mandato un messaggio a un po' di persone, un po' di pazienti, amici, per favore, perché il per favore è proprio... Non è che ci portate, mi portate un po' di cibo, o me lo fate mandare, o lo fate arrivare qui, con i soliti mezzi, insomma, si è riempito lo studio. Ecco, quello studio che ancora oggi è pieno. Sì. Di altre cose, non più spese solo, ma anche altre cose. Più due box. Più due box. Perché, come dire, quando le cose sono belle, poi uno ci prende la mano, no? Il bene diffonde. Non fa rumore, ma diffonde. E da questa... Quindi avete unito all'utilità con l'aiuto, nasce a Utility, che ad oggi, appunto, ha aiutato tantissimo, appunto, durante l'emergenza Covid. Poi, come dire, la fortuna ci vede bene, ma la sfiga ancora meglio, sono arrivate le guerre, no? Quindi, insomma, anche lì. Sì. E, in primis, quando è scoppiata la crisi in Ucraina, voi, tempo zero, anche lì siete intervenuti. Guarda, la cosa più commovente è sempre, che è una cosa che veramente mi prende il cuore ogni volta, è il vedere come le persone si identifichino in chi ha bisogno. Ti faccio un esempio. Ci chiedevano dall'Ucraina addirittura le candele, perché nei rifugi non c'era, quindi, le torce, il power bank, le ricariche, insomma, il cibo, di tutto, di tutto. Abbiamo mandato camion su camion. Abbiamo anche poi fatto, partecipato a un programma, perché poi, sempre per la questione del coro, c'è una rete di circa 130 persone in tutta Milano, che collabora, si scambia, è una rete vorticosa, a maglie sempre più larghe, ma sempre più fitte, e quindi all'inizio ci portavano le candele, anche, per illuminare, ma portarle gialle e blu, come la bandiera ucraina, questa è una roba, questa è una delicatezza, potrebbero prendere le bianche, o per qualsiasi colore, no, la delicatezza di scegliere il colore, oppure la scelta di prendere una cosa che so che nei paesi dell'est questa la mangiano, quindi secondo me a loro piace, ecco, questa è devastante, ti, puoi essere stanco, puoi essere massacrato di fatica, poi ti arrivano queste cose qui e ti siano. Il volontariato, celebrare gli sforzi, condividere i valori, promuovere il bene, questo è il titolo della serata conclusiva di questa giornata dedicata al volontariato e organizzata dal CSV di Milano a Milano in città metropolitana. Questa serata si svolgerà appunto questa sera alle ore 21 nella sala consigliare del comune di Pogliano milanesa, la presenza anche del presidente del CSV Milano Andrea Fanzago, organizzata proprio da Pogliano milanese, quindi abbiamo qui il sindaco e il vice sindaco. Chiedo a lei in particolare quello che ci può anticipare rispetto a quella serata e anche come è nata e quali saranno i temi che affronterete. Ecco sì, noi siamo onorati come dicevo prima di ospitare il presidente di CSV Andrea Fanzago che è una persona davvero squisita anche per la grande esperienza che ha lui nel mondo del volontariato. Ecco, vogliamo, la prima parte della serata sarà proprio sullo sviscerare questa frase qui, celebrare gli sforzi, condividere valori, promuovere il bene. Che cosa vuol dire? Quello che dicevamo prima, è giusto, le associazioni fanno fatica, bisogna dare atto degli sforzi che fanno perché noi celebrarli vuol dire dare atto degli sforzi che fanno, riconoscerli e condividere valori perché tutti abbiamo dei valori da condividere perché se perdiamo i valori al giorno d'oggi è già difficile ma se perdiamo gli ultimi valori come l'amicizia, la solidarietà, se perdiamo quei valori fondamentali della nostra società, della civiltà occidentale, di quello che siamo perdiamo tutto e quindi... Quindi l'identità diciamo, l'identità che poi anche è quella sociale spesso. L'identità anche, certo. E il tutto per promuovere il bene perché qualsiasi associazione, sia l'associazione della Caritas, sia un'associazione di motociclisti o qualsiasi altra associazione a parte, qualsiasi sia il tema di questa associazione, uno fa, si associa ad altri per fare il bene. Non credo, non ci credo che ci sia qualcuno che si associa a qualcun altro per fare del male. Vabbè, purtroppo quelle sono altre organizzazioni che non hanno altri tipi di associazione. Quindi è quello il succo. Quindi ci sarà una prima parte della serata proprio per parlare, per sviscerare questo slogan diciamo e poi faremo, daremo la parola ad Andrea Fanzago che ci spiegherà appunto tutto il discorso della Civil Week e del Lab Territoriale che vogliamo essere anche l'anno prossimo e poi ci sarà naturalmente un dibattito con tutti coloro che interverranno. E lo citava prima, lei è stato volontario, forse lo è tuttora, insomma, quindi questa giornata. Mi piaceva anche che raccontasse un po' la sua esperienza condivisa di volontario anche mentre è stato ha partecipato alla vita politica della sua città. Sì, allora io come dicevo prima vabbè ho sempre fatto sono sempre stato all'interno dell'oratorio quindi come animatore per coi bambini durante l'oratorio feriale durante tutte le attività degli oratori andavo in montagna con i ragazzi li portavo in montagna e poi nel 1998 abbiamo fondato insieme a un altro gruppo di giovani la società sportiva dell'oratorio che attualmente milita in terza categoria quindi hanno fatto un po' di strada poi quando ho cominciato l'attività politica allora inizialmente per forse per qualche mese ho dato comunque una mano come direttore sportivo del settore palavolo dopodiché però ho mollato il colpo perché non è corretto che chi partecipa alla vita politica perché io non potrei anche avvantaggiare del fatto che sono un volontario in una società sportiva fondata sul volontariato e partecipo alla vita politica quindi potrei da fuori uno potrebbe dire tu fai il volontario lì per prendere i voti per poi diventare l'assessore allo sport o fare o fare altro quindi diciamo che mi sono mi sono tolto appunto dall'impegno diretto nella società sportiva però comunque continuo a collaborare con diverse realtà del territorio poi c'era per esempio ero iscritto vabbè io ho fatto l'alpino quindi sono iscritto all'associazione nazionale alpini e sappiamo gli alpini sono sempre in prima linea sul volontariato sul volontariato la solidarietà e appogliano ero iscritto anche all'associazione alpini per la famiglia che è un'associazione che c'è tutt'oggi fondata da un alpino che è Giuseppe Azzetti che è mancato due anni fa all'età di 87 anni e questo l'attività principale di questa di questa associazione all'inizio era era un'associazione di volte disabili poi invece si è concentrato questo signore anziano sulle adozioni a distanza e sono arrivati ad adottare 90 bambini della Birmania del Myanmar e lui personalmente questo signore 90 vostri concittadini di fatto sì sì e all'età di dopo gli 80 anni aveva già 80 anni suonati ha imparato l'inglese per quello che poteva imparare ha imparato utilizzare il telefono il computer e è andato due volte in Birmania per andare a trovare questi questi bambini per avere la prova provata che i fondi andassero direttamente a loro quindi questo è un altro esempio di volontariato bello che ho avuto nella mia vita quindi insomma abbiamo iniziato con una criticità un appello e concludiamo con però insomma cose anche positivi che si muovono quindi io vorrei salutare i nostri ospiti dando la parola al sindaco con un'ultima domanda nel fuorionda mi diceva che lei sono 30 anni di fatto che opera nella politica dato che non è a 97 è la maggior parte della sua vita quindi nonostante le difficoltà che ci sono e ripetiamo l'appello alla cittadinanza a partecipare ma non solo di Pogliano insomma dei vari comuni non ha però perso la speranza dato che sappiamo i stipendi dei sindaci almeno dei piccoli paesi comuni non essere non fare la differenza sul bilancio familiare dove ripone la sua speranza che la fa rimanere insomma nell'amministrazione pubblica con questa grande apertura per il mondo del terzo settore Sì principalmente l'affetto dei cittadini devo dire che anche dal punto di vista politico ho sempre avuto un grandissimo riscontro a livello di preferenze a livello di voti quindi secondo me è un po' ripeto molto molto su un altro ambiente però un po' come il volontariato cioè se il cittadino ripone in te la fiducia che si possa risolvere un problema o che si possa migliorare un qualcosa è una forma di cioè di investitura cioè lui ripone in te la fiducia che ha verso la collettività verso la pubblica amministrazione riconosce in te la capacità di risolvere quel problema banalmente anche questa è un'investitura che a me tocca molto quando quando io vedo che i cittadini mi fanno delle domande quasi sempre pertinenti ovvio che qualcuno poi fa anche la domanda che interessa solo a lui la buca davanti casa ma per banalizzarla e riusciamo a risolvere i problemi nell'interesse della cosa pubblica della cosa collettiva dell'interesse collettivo è quella è una delle forze è una e la benzina ecco che mi dà la forza di andare avanti quello di essere consapevole autocritico perché sono anche molto autocritico quando sbaglio lo ammetto e mi spiace anche e cerco di fare il bene della collettività il nostro paese negli ultimi anni questo lo dicono tutti da destra e da sinistra è cambiato radicalmente è migliorato è più bello più ordinato è più pulito c'è più coinvolgimento in ogni settore anche l'oggetto diciamo della giornata di oggi quindi c'è un ritorno e questo serve a far maturare un paese serve a renderlo consapevole consapevole che tutti insieme ce la possiamo fare un po' come come diceva lei dice non ho perso la speranza non bisogna mai perdere la speranza perché è il motore ripeto della vita cioè se oggi noi non abbiamo le ambizioni che poi ognuno ha le sue quella di vincere il campionato piuttosto che di essere il più votato ma nell'interesse della collettività secondo me non c'è cosa che ti può fermare quindi ringraziamo Carmine Lavanga sindaco di Pogliano milanese Gabriele Magistrelli vice sindaco di Pogliano milanese grazie per essere qui con noi grazie per fare anche voi ogni giorno la vostra